L'Istat ha comunicato i dati sugli incidenti stadali in Italia relativi all'anno 2014. Sono verificati 177.000 incidenti stadali con lesioni a persone che hanno provocato la morte di 3.381 persone entro il trentesimo giorno e il ferimento di altre 251.000. Rispetto al 2013 il numero di incidenti scende del 2,5%, quello dei feriti del 2,7%, mentre per il numero dei morti la flessione è molto contenuta, meno 0,6%. Nel confronto tra il 2014 e il 2010 i decessi si riducono del 18% a livello europeo, del 17,8% in Italia. Ogni milione di abitanti nel 2014 ci sono stati nel nostro paese incidenti stadali pari a 55,6%. Nella gradatoria europea l'Italia si colloca al quindicesimo posto dietro il Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Sulla base dei dati di dismissione ospedaliera i feriti gravi a seguito di incidente stadali sono stati circa 15.000 contro i 13.000 del 2013, più 16%. Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, dove sono registrati 4,63 decessi ogni 100 incidenti. Le vittime sono state invece 1,13 ogni 100 incidenti sulle strade urbane e 3,14 sulle autostrade. Il numero dei morti diminuisce su autostrade e strade extraurbane, meno 16% e meno 38% dell'anno precedente, aumenta invece sulle strade urbane, più 5,4%. Intanto sono quelli di maggio, giugno e luglio i mesi con più incidenti, mentre giugno e ottobre quelli con maggior numero di deceduti. Il venerdì è il giorno della settimana in cui si concentra il maggior numero di incidenti, 15,4% del totale. La domenica avvengono però i sinistri più gravi, 3,1 morti ogni 100 incidenti, seguiti dalla sabato 2,3. Nella fascia oraria notturna tra le 22 e le 6 del mattino l'indice è più elevato fuori città. Nel 2014 sono registrati 1.491 decessi tra conducenti e passeggeri di autovetture, seguiti dal numero di motociclisti 704, pedoni 578 e 273 ciclisti, occupanti di mezzi pesanti 159, diciclomotori 112 e altre modalità di trasporto 64. L'indice di mortalità per i pedoni, morti ogni 100 incidenti, è 4 volte superiore rispetto a quello degli occupanti di autovettura, 2,75 contro 0,67. Per i motociclisti e i ciclisti il valore dell'indice è invece rispettivamente triplo e doppio, 1,69 e 1,41.